Noi siamo, diciamo, molto appassionati di calcio, cioè lo sappiamo, quindi nel nostro passato c'è stato molto calcio. La fattispecie, quando è uscito il nome della San Benetese, l'entusiasmo è andato anche più in là. Conoscendo la piazza, io ho avuto degli amici dei miei figli, hanno giocato a calcio qui e mi hanno sempre raccontato le loro esperienze, che è stata fantastica. E quindi i ragazzi hanno giocato dalla Serie D in poi e quindi hanno dei ricordi fantastici di come una città, la propria scuola del cuore e come lo sostengono allo stadio. Quindi per me personalmente è stato molto facile dire sì al presidente. Non è tanto Renzi che ha convinto me, ma sono stato pure io forse a convincere Renzi. Dopo vi racconto. Perché lui è uomo di calcio, perché nella sua storia è stato sempre il calcio, quindi era l'unico che poteva, come dice sempre lui, portarsi al successo su questo. Noi abbiamo un motto, tra di noi, lui ci ripete sempre, fidatevi che vi porta al successo, fidatevi che vi porta al successo. E questo nella nostra storia imprenditoriale sta avvenendo e sicuramente lui ha una garanzia che anche nella storia della San Benetese c'è un successo promesso.